Va bene, andiamo un po' a vedere questa cosa qua, questo sarà il nuovo Udyr, vieni a vedere Monny! Guarda, questo è il nuovo Udyr. Cugino, mi sono autobannato! Non ti piace? No. Sono ancora tutto quasi in fase di creazione, eh? Ma... Che? Oh... Ma... 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 È molto più alto di prima. Ciao, Jason Momoa. È ancora tutto un work in progress, è normale. Madonna, perché fierezza è! Guardatelo! Che cazzo sta lì, chi è da sole? Ma chi è? È Jason Momoa, ragazzi, davvero lui? Monny, guarda, vieni a vedere. Guarda... Ahahahah! Porca puttana! Oh, mamma mia! Guardalo! Perché c'hai gli occhiali? Non lo so Mi è stato accesso Ma è Tori in Endgame Ma perché è così tonda? È gonfio? Non lo so Beh queste sono tutte cose che Lo stanno ancora creando È ancora tutto in fase Cioè è molto indietro Però vabbè Fa vedere un po' Di cosa Aspetta prima Non aveva praticamente animazioni Che cosa è sta roba? Non ho la barra sotto Vabbè Non mi va di leggere Tutta sta roba qua Perché Bello comunque Dai Qua sembra fica L'animazione Sì sì Comunque È una specie di Jason Oddio Che fa? Saltellano dei Dei fulminini? Perca troia Guarda qua Mamma mia È incazzatissimo Qua sono le skinne Che sono? Madonna Qua sembra fiero Sembra proprio Questa è una figata Qua sembra un dio Dio nordico Guarda lo c***o È passato Secondo me è fico E dai Secondo me è bello Qui all'inizio sembrava un pochino strano Però secondo me sarà una figata Lo vedremo come uscirà Questo link ragazzi Se lo volete anche voi Ve lo leggete È tanto lungo Quindi non lo sto a leggere adesso Però Se avete voglia Di spulciarvi qualcosa Lo trovate lì Reaction veloce al volo Vi è piaciuto o no Sto Udyr? Cosa ne pensate? Vi È bella questa cosa Oppure Oppure no? Io lo amo Bronzite Bronzite acuta Io lo amo Abbiamo due Io lo amo Da Chocobo Ibana Shoumi dice carino Vedremo quando uscirà Doki si dice sì Curiosità Bellino Non ne vi giudica